Diversi enti e comuni martigiani hanno preso parte a Milano all'importante evento della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, con l'obiettivo di incrementare l'offerta regionale che si propone in questo campo. Sulle possibilità della proposta turistica della nostra regione e sull'importante vetrina a Meneghina, ascoltiamo il prorettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori. È evidente che la nostra regione, peraltro, è in linea con quanto sta accadendo anche in altre regioni. Si sta caratterizzando per alcuni risultati non particolarmente positivi. Il tema del terziario e del turismo allargato è un tema particolarmente importante. Si possono ottenere buoni risultati perché ancora abbiamo, ad esempio, un tasso di attrattività estero molto limitato. Il numero degli turisti stranieri in termini di arrivi è inferiore al 20% del totale, quindi c'è una grande possibilità di crescere. Per crescere però bisogna avere una chiara strategia e una chiara visione, ma questo lo puoi fare se hai analizzato correttamente i dati e quindi sai quello che è successo in termini di dati storici e se hai anche una possibilità di capire come stanno cambiando i trend e quindi dove andare. In questa prospettiva diventa fondamentale utilizzare altri strumenti di analisi che non siano solo quelli fondati sulla tradizionale attenzione, forse eccessiva, che viene posta agli arrivi alle presenze dove spesso si innescano anche polemiche francamente inutili perché gli arrivi alle presenze non ci danno informazioni né sulla redditività che deriva da quelle attività né ci danno informazioni sugli aspetti qualitativi che sono spesso determinanti. Allora dobbiamo innescare un sistema di misurazione molto più ampio che colleghi anche il turismo agli altri settori. A livello internazionale si individuano tre grandi gruppi di variabili economiche, poi ci sono anche quelle sociali, demografiche variabili che sono collegate ai risultati diretti, a quelli indiretti e a quelli indotti. Se andiamo a fare la somma di tutto questo otteniamo un valore consistente superiore ai 4 miliardi e quindi in linea con quello che accade sostanzialmente a livello anche internazionale il peso del turismo allargato sul nostro prodotto interno lordo è superiore al 10%. In una situazione del genere noi riusciamo a farlo crescere ancora soprattutto incrementando la presenza di turisti stranieri.